Allora ragazzi, qui è il vostro animatore di NoFactory E siamo qui in questo vlog Che io sono stupido perché dicevo che non potevo fare vlog Ma vi sono ricordato l'ultimo momento che è possibile farlo Grazie a la webcam e l'opzione di Youtube Che ho notato solo questo pomeriggio E i miei capelli mi sono dando un fastidio cane Capelli lunghi E odiare parrucchiere, non sono delle cose che vanno bene E se vedete perché ho questo aspetto ridicolo Con questo cappello strano E perché questo cappello è un po' più grande del solito E perché l'altro ce l'ho in macchina Dei miei E ho la cuffia qua Che è un cappello che uso per registrare gli audiolog Perché vi faccio vedere Cioè con le cuffie sono un po' di piccolo Beh non più di tanto Però un pochino lo sono E se sentite Un Di Ave Il sottofondo è il mio computer che si sta imbambolando Più o meno E ho un attimo risolto il problema del fare i video Per poter renderizzarli Il problema è che adesso mi pesa un casino Cioè Per installare il programma ho dovuto Ho cancellato il programma L'ho reinstallato E Diciamo che si sono installate un paio di cose inutili Che mi rendono pesante come tipo Ho pubblicità tipo qua una pubblicità inutile E vabbè Fa niente L'ora la vadete di autore maker Sono solo le Dieci Praticamente E E Niesto Volevo solo un attimo salutarvi Ringraziarvi tantissimo Per i 500 iscritti Cioè 500 Ma 500 Come fa te sei 500 Grazie Se vi vorrete davvero andare a casa a voi e dargli una bacione Anzi Ecco Un abbraccio Stato PS È bello il processo di alzebrati E i doppiaggi così Carino Vorrei offrirmi Magari ucirò a offrirmi Sfruttando questo trucco Un altro Troppa rengesi Ken Non hai Più Giustificazioni Hai il mezzo Anche se è scasso Puoi fare un audiolog È tipo da un anno che io altri ti si lo chiediamo Quindi Magari lo farà Magari no Notate che dall'ultimo Audiolog Dele lasagne Mi pare Mi sono cresciuti Barba e baffi Barba Bizzetto e baffi E Capelli 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 Un casino di capelli In estate che sudo i capelli Una cosa utilissima Capelli Belli capelli C'è un mio amico che Si chiama Ricky praticamente Quello di Super Gigant Che aveva un Un amico che era Che per prenderlo in giro Chiamavamo Bilibilibilibilibili Bilibilibilibili Scusa Non si sa sentiamo questo video Scusa E comunque niente Per adesso ho finito Da Matteo Unfactory per tutto Good bye raga